Ciao a tutti, oggi cercheremo insieme a Stefanico45, che c'è una banana e adesso è anche con Rose, che oggi ci faremo la questa mappa esalturon su pista, vede che l'ho detto bene comunque, iscrivetevi al canale di Rose, che oggi ha aperto un canale in tube e anche Stefanico45, comunque questo video lo stiamo facendo allo stesso tempo e... eccoli qua, vediamo ehi, aspettate, stanno ancora facendo un intro li sto aspettando siamo qui su Fall Guys, con Sario e Rose ah, ne ho sentito proprio il Rose aspetta un attimo ma che youtube, ma che... ma che youtube sarà così aspetta che youtube è Rose, come scrivete? eh, io... si sentite quando, però cosa ha detto aspetta aspetta, aspetta aspetta, farà parte del video per fare più, per fare più... come si chiama? ridere, ecco comunque c'è per dirvi, stiamo facendo tutti e tre il video allo stesso tempo, quindi va bene e oggi faremo... questi tre youtuber ci unissero è solo questa si è a schier ah, pensavo che ci stavo pure quello lì ad esatto di normale no no no, non c'è come siamo vicini siamo vicini se voglio farle quella no nuovamente disegno l'ora no guarda come ti vogliono prendere quella gente no mio dio pro gamer pro gamer seppressioni già sono andata ma io sono riusciti eh tutti quanti stanno registrando a meno che non ci stava la clip come ha fatto un episodio mio aspettate fatemi vedere se stai registrando puoi farci vedere anche se sto registrando aiuto ok si sto registrando eh no perché io io edito e quindi tolgo la clip e poi la raggiungo sul share factory ah no quindi non si può vedere basta che togliela la clip no non farlo proprio comunque si stai registrando perché te l'ho cliccato io di volta eh bravi se ti registrano che dobbiamo fare bravi grandi vabbè comunque cosa devono fare gli iscriviti iscriviti alla fine si scopre che se alla fine si scopre che se non sto registrando no ma aspetta ma questi devono fare gli iscriviti gli iscriviti al carri sul divano prima di cosa iscriviti poi soprattutto al carriere in bagno quando dovete andare in bagno ρι non morlo non architecte aiuto visto r 수�ivist sicuri allora riferire ho a casa mi chiedo di video mentre un buon zaman al ciao mi new sb i il centro non morite non capiamo che non prepara non 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 mi vedo poi ci vuole non è stato un uomo non è stato il mio anno il mondo mi dice un uomo e questi novanta che sono forti chi è la barca non mi muore su adesso siamo e io per esempio nooo, io sono vivo per fortuna proprio tu sai perchè perchè ti devo abbandonare poi con quella faccia la cosa su immagini guardala è vero guarda ci sembra che vogliamo ammazzare qualcuno ma infatti se me la vuoi dare due volte per farci falcare almeno che il petro ma il cliente il petro che sapete che è una collab e adesso ragazzi devo fare lo sponsor di oggi ovvero nessuno non sono sponsor no il mio sponsor è iscrivetevi nel suo canale no il mio sponsor è in attesa dei giochi totori il mio invece è San Tullo che ragazzi siamo in due ma è la finale o no? è la finale questa qui vabbè io non ho letto ok allora sono carico come una molla ecco qua e sono carico come una banana e sono carico come una banana e guarda la cucina che tengo dietro guarda non ti guardare l'animo a me si tantissimo ma adesso devo fare una domanda ho fatto che tu mi chissà scecci aiuto no 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 dai mantendolo aiuto 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 stomba di nostro per morire come arrivo tu mi devo lo schiena non è il testare in storia invece aiuto e snorchi guardare scelta aiutaci qualcosa per ammigiatura la chiesa ii aiuto come pulire il culo ma c'è ma aspetta ma stiamo facendo fuori tutto no no ma non muore quello non cade non cade no dai sto qua sto tanto ha vinto il tango ma io non ci credo eh ma dai ma chi sono per lo stagio è più scarso perché è molto per primo vabbè io sono livello 100 tu no io sono livello 29 e voi no io sono livello squishy ma livello squishy io ragazzi non c'ho un microfono aiuto abbiamo modalità mettiamo quest'altra e qual è ma questa è bella è facile questa è facile è però è bella bella ma facile ma aspetta quale perché non sto vedendo e mi sto mettendo quest'altra è prova di esagravità lo sai che ho pure io ho tentato a scioparlo ma tu già ce l'avevi giusto metti pronto e 11 iscritti e iscrivetevi anche e iscrivetevi anche alla pappagallina 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 e aspetta tre visual e tre like e chissà di chi saranno ma secondo me non sono di questi tre che sono in lobby no? no 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 vabbè ma chi sono? ma ragazzi è riuscito a trovare l'impostore e la sotto è il parrot è il pappagallo è il pappagallo è un pappagallo ma secondo me è stato uno diverso secondo me è stato uno sottomarino vuole mangiare il tapp ma chi è stato? il tappo è il pinguino io chiamo tappo ah sì chiamo tappo il pinguino ma siamo lontani come si chiama? figurateli è proprio io sono tra gli albi su full guys guarda tutti come corrono guarda quello spingone come è strano un po' di spazio che sono da sono da sono da sono da no 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 vabbè vabbè si può sempre recuperare dove state voi? io sono da blu io blu non ho più al blu non avvio ah io sono da sei sopra di me allora no 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 io sono da io sono da io sono da ho visto ho visto io sono giallo è caduta io sono da i am to the yellow a quanti erano ci sono? è tre guarda come ti vedo dove c'è Stefaniec? sono sopra di te stefanic ne mentre stava non si sta guardando qui se guardano strange things se sbaglio sono caduto tutti i teti no 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 piccione no cos'è sto posto perchè li sto neccani giù ma questo posto all'inferno scappa no stefani che mai andare soprattutto questo ma siamo in tutti questi questi morti no io ne so se tutto poi sono caduto mi sono stumato per troppo tempo e quindi uno mi ha fatto cadere giù no vabbè che burro mi ha detto che a me pure il set di che è morto noi sono vivo io sono vivo due perché mi tocca da pezzi adesso mi devo sbagliare a me di notte ragazzi pensate cioè adesso mi manda di sbagliare a me di stare di notte ma che sta per legno è meglio di stare di notte perché sono un disturbo infatti poi io non mi metto mai a dormire poi ti viene da dormire quando fai la line mi ha domicilio mi ha dormito sulla scrivania mi ha dormito sulla scrivania quando io la conosco mi ha dormito le quattro del mattino a parlare c'è ma io sto sempre tipo il caffè la mia vita io sono sano io faccio con quelle persone che si chiama vio che la barca non ci sono giusto una macchina da guardia che penso che adesso fa il coccodrillo i crocchi è nuovo per favore il mediterraneo sicuri di brici gioco che io ciò che non potrei mai perché ciò l'ho finito non c'è voglia di farlo i trofei che c'ho voglia di farlo chi ciò vuole un'emoto finalmente no 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 oddio non fa gioco tutto qui non nero titolo digitico futbolismo mondi il mondo e non c'è lì i rifiuti per morire in me stesso modo come in me stesso modo posso guardare sei vivo? si se lo vivo tu? si? si si ok io non se tutte le persone sono così non ne posso immaginare il prossimo la persona difenca a me se vuoi la vedete il cammino ma io vedo uno che è caduto ah vabbè adesso perdo allora sai oggi se io perdo tu devi perdere no se io vinco tu devi perdere no se stefanic se stefanic perde tu devi perdere caro non rompre me uuuu salio non rompere eh voglio dire rose eh visto io no io sono salio ho 360 iscritti e basta c'è stato uno e mi chiamo Antonio allora al momento della registrazione di questo video cosa? al momento della registrazione di questo video questo è la finale eh infatti non sapevo guarda che è in cordo che cos'è tutti quelli corrono cioè ma guarda è già finito il primo strato vado 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 mio mamma ci metteranno i secoli a cadere eh quante potreste vedere aiuto no allora non concentrati siamo no 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 i i i i i i i vedi e pinte dormi ti consiglio di dormire con gli occhi aperti perché torna a fare la rai e poi fiori non mi toccano di perciò un caldo un agente ultimo strada no a non sa nessuno l'ultimo strato ora il penultimo unito sario potrei sanno in secondo fai buco grande allora è però non fallo dove sono sotto dove sono sotto io stupido coccodrillo paia fa in amazzonia dove in cina va in cina castigato magari perché tu salti non devi saltare meglio perché ci sono tutti quanti imparicati no 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 adesso lei veramente di tutti quanti questi fighi stanno giocando un po' di un piccolo che se fossi è il fatto essere no perché per farli era con di trattacione vincere che perde adesso per vivere anche un delore per le piattaforme sì il godo devi sopravvivere si 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 credo è vabbè vabbè comunque ho vinto io cioè non potete negarlo negarlo ma in me lo siete io e 30 e se siete avete siete il clima del mondo guarda sono solo un domenica non sono un po' 3 non credo per amare evo.it 25 ma che non ha fatto le mie cittimani ma che cosa che cosa sarà proprio mondo come ci stima legge compiare a me ai su milano ancora questo qui è islam di vista adesso muoio subito che bello dovevo quello che volevo e ovviamente indovina che è sempre l'ultimo sempre lo spiegato di stefanic giustamente unico i tuoi pacman c'è sadio nella cosa della rana tipo di pacman spero che mi porta fortuna io devo invece tengo una moneta nella corona invece stefanica le branche non so se hai visto quella cosa è la rosa ci sto ancora ma chi lo devi senti tutto sotto cosa è il cuore ma siamo no siamo lontani non so se ti dico no io vengo a portaccio non vengo da voi io sono un ascolot al bello ciao non è già andato ci stanno lì a lungo abnorme uno è già caduto due sono caduti e si chiama uovo aggressivo ragazzi uno si chiamava uovo aggressivo ma siamo vicini che bello io vedo che siamo vicini io vedo io vedo che si affianca voluta marro con un cilindro di legno come giocare rimane insieme al cilindro mamma mia non lo sapeva nessuno noi come giocare rimani fermo e cadì giù nel malo e muori prima posso dire niente per immaginare nessuno dicono questa qua tipo facciamo questa cosa ancora lontani noi avere questa piccola parentesi posso farla sì ma non si è iniziato a fare video no faremo un intervista troppo giocato ci sono molto più uno vestibili volgaisi in poche parole mori e vestibili aspetta ma perché smotto quattro persone non devo morire se non so che è un tipo di morto ora di quelle persone la che piena finisce il round si butta subito no dai dopo a me al finale non ci credo no vabbè banana pure che ci sta scritto in tondo ma però con il ghiaccio che ti commettono poi con quelle tasselle di ghiaccio in cui tipo dimostrato si rompono così io dai io sto guardando una persona che si chiacchia inizio con la s e 3 non so che entrambi che inizio che inizio della del sovrannome alla s e del dio stefanic mai guardare il mio schermo fortuna generale no 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 eri così giovane eh perché tu stai guardando a sario fortuna 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 f in the chat guys f in the chat f in the chat f in the q f in the q f in the q f che bello sono salito 300 ma io sono livello 100 no livello 2 che bello e ora che se faccio un conto di tutti i sbagliati che ho fatto il testo pubblicato mentre se è che prende come ci sento tubo scudo dove ci hanno dato nel passo la presenza il tavolo di più come si fa non so si scioppa no e adesso si saluta voglio chiedervi prima una domanda quanti corone avete voi? io ho due io ne ho 88 ma in che senso dove si vede? si vede vai su come chiama nel secondo pass nel secondo pass e vai nel prossimo livello allora ho due a portarti io ho due io ne ho 88 io ne ho 69 tu che sai quanto rosa? e qual è la tua ricompensa? la mia ricompensa? si è gelato? si è gelato ho sbloccato il prossimo è gelato il prossimo è una targhetta comunque a me qua anche il mio anche il mio noi ci vediamo che coincidenza wow ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao